Non c'è solo il calcio giocato, ma anche quello legato alla valorizzazione dei giovani e per una società è già di per sé un fattore di vanto. Se poi, abbinata alla strategia di far crescere i giovani, c'è anche un riconoscimento economico, ben venga. Nella passata stagione, ad esempio, la Lega Nazionale Dilettanti ha premiato il Fasano con 25.000 euro per aver totalizzato 1.244 punti complessivi in merito allo schieramento in campo dei giovani e ai bonus relativi all'attività giovanile, precedendo Sorrento e Nola. Ma in questo senso, quello del presidente Franco D'Amico, che non ha mai nascosto di voler trascinare i biancazzurri tra i professionisti, è un club modello e da quattro anni consecutivi, infatti, che conclude la stagione sportiva al comando della classifica Giovani di Valore. E la LND ha reso nota anche la classifica provvisoria della stagione in corso. Al comando della graduatoria c'è la Cavese con 888 punti, seguita appunto da Fasano, 639, e Matera, 601, in fondo. Invece, il Barletta con appena 57 punti, la seconda pugliese, e al quarto posto e dell'altra neopromossa Martina, 586. Ricordiamo che la prima classificata si assicura 25.000 euro, la seconda 15.000 e la terza 10.000, ma la ricompensa più grande è vedere sbocciare i talenti del futuro e quale migliore occasione se non schierarli in campo.